Essere sostenibili, impariamo dalla natura. Era questo il titolo del convegno che martedì scorso ha ufficialmente inaugurato l'Hub Impresa Sostenibile di Confartigenato Vicenza. Questo spazio riunisce in sé tutti i servizi dedicati alle imprese in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale. All'incontro erano presenti lo scienziato e saggista Stefano Mancuso ed il biologo e divulgatore Giacomo Moro Mauretto, in arte Entropy for Life. Ascoltiamo ora sul tema il presidente di Confartigenato Imprese Vicenza Gianluca Cavion. Serata molto partecipata all'inaugurazione del Hub Impresa Sostenibile. È stato un piacere ascoltare i nostri due relatori, il professor Stefano Mancuso e il dottor Giacomo Moro Mauretto che ci hanno dato degli spunti interessanti da poter sviluppare con le nostre imprese per cercare di delineare un futuro migliore. Arriviamo a questa serata grazie a un percorso che Confartigenato ha intrapreso due anni fa con il tema di è impresa sostenibile, dove abbiamo coinvolto parecchie aziende e ci siamo accorti che avevano bisogno di un supporto e proprio per questo abbiamo voluto mettere a disposizione delle persone competenti per accompagnare le nostre imprese a una crescita importante per poter stare sul mercato, perché il tema della sostenibilità ci accompagnerà per il prossimo futuro. Ci sono già tante aziende e mi riferisco alla filiera dell'automotive, alla filiera della moda, che lavorando con grossi brand hanno già la necessità di seguire una filiera importante dove i requisiti della sostenibilità sono elementi fondamentali per poter lavorare. Perché il tema della sostenibilità non è soltanto un tema ambientale, ma anche un'opportunità per poter stare nel mercato ed essere competitivi con le nostre aziende. Ed è per questo che ci siamo attivati e che vorremmo accompagnare le nostre imprese a seguire un percorso di formazione per poter dar loro la possibilità di essere competitivi nel mercato, ma soprattutto affrontare le sfide future per la salvaguardia anche del nostro territorio, del nostro ambiente. E soddisfazione per il convegno ed il percorso è stata espressa anche dal responsabile area strategie d'impresa e di mercato di Confartigianato Vicenza, Andrea Rossi. Siamo stati contenti e soddisfatti della serata di inaugurazione del Lab Impresa Sostenibile, che ha così preso ufficialmente il proprio avvio e da questo momento anche formalmente siamo in grado di offrire alle nostre imprese associate assistenza e consulenza con riferimento ad un tema importante come quello della sostenibilità. È stata una serata veramente importante, abbiamo voluto dare un taglio culturale significativo anche attraverso la presenza di due relatori di grande spessore e questo ci ha consentito ancora di portare l'attenzione su questo tema che le imprese di tutte le dimensioni avranno la necessità di affrontare. Abbiamo già alcune imprese che sono inserite in filiere dove la pressione legata alla sostenibilità comincia ad essere importante, ci sono cambiamenti normativi in essere e in divenire e di conseguenza riteniamo veramente importante e strategico che Confartigianato abbia a disposizione un punto di riferimento per le imprese che possano così avere delle risposte, avere dell'assistenza e avere della consulenza quando necessario. Continueremo anche nell'attività di sensibilizzazione, di acculturamento perché riteniamo che sia rientri a pieno nei nostri obiettivi e rientri negli obiettivi dell'Hub dell'impresa sostenibile e quindi per qualsiasi necessità o qualsiasi esigenza le imprese associate ai nostri imprenditori possono contattare l'Hub impresa sostenibile per avere indicazioni e risposte.